un saluto e un benvenuti a tutti voi che mi ascoltate è arrivato il momento di un nuovo episodio di italiano in podcast questa è la puntata numero 540 540 di martedì 16 agosto 2022 siamo un po oltre il 16 agosto in realtà è molto tardi questo è il classico podcast da vampiro di paolo siamo ormai a luna e un quarto spero di non fare troppo tardi ma ho voglia di fare questo podcast perché non voglio lasciarvi troppo tempo senza un buon esercizio di ascolto e di comprensione come sempre ovviamente a parlare davanti a questo microfono è paolo cioè sono io e come sempre vi faccio compagnia anche stanotte per qualche per qualche minuto è passato il ferragosto un po un giro di boa possiamo dire per l'estate un giro di boa è quando le regate le barche passano appunto questa 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 boa per ritornare o per fare un nuovo una nuova parte di percorso in generale però si intende un po un momento in cui si supera la metà o comunque un momento importante in un periodo oppure in un in un progetto in qualunque tipo di attività un giro di boa è un momento un po di svolta ecco in cui le cose cambiano e il 15 d'agosto è un po un giro di boa per l'estate l'estate comincia forse a finire in questo giorno almeno per molti per molti di noi e comunque dopo questo periodo questi giorni di festa il fine settimana e lunedì la domenica e lunedì ritorniamo oggi per stare un po insieme di nuovo e mettere un po alla prova il vostro italiano grazie alla mia voce che spero sia ancora chiara e abbastanza facile da comprendere abbastanza facile ma non troppo però non voglio che sia troppo facile dovete anche un po lavorare per capirmi per mettere insomma per esercitare bene il vostro italiano comunque sono qui e sono felice di aiutarmi anche oggi proverò ad essere breve non troppo veloce con il racconto di queste giornate anche perché per me non sono state poi così movimentate purtroppo o per fortuna non lo so ma scherzo sono state giornate tranquille ma non troppo come dire non troppo impegnate ecco possiamo dire così senza troppi impegni ma ancora molto buone per per riposare voglio svelarvi un piccolo segreto prima di iniziare a parlare di questo ma prima però voglio fare la mia introduzione come sempre per scaldarvi un po le orecchie per finire di scaldarvi le orecchie e come sempre per questo scopo uso il mio consiglio preferito prima di iniziare ad ascoltare il podcast anche se ormai avete già iniziato a questo punto il mio consiglio è di cercare un posto tranquillo aspettare un momento buono momento tranquillo e poi iniziare ad ascoltare la mia voce sperando che questo non vi faccia addormentare in questo posto tranquillo in questo momento tranquillo con la mia voce un po soporifera spero che possiate arrivare alla fine o almeno ascoltare una buona parte se vi fermate se non capite qualcosa voglio dire non vi fermate subito soprattutto se siete ancora svegli non vi fermate continuate ad andare avanti non lasciate che il sonno vinca arrivate fino in fondo e poi quando volete subito o anche un giorno dopo quando siete comodi tornate indietro e cercate di riempire i buchi che avete lasciato per imparare nuove espressioni nuove parole nuovi modi di dire insomma se mentre parlo qualcosa vi sfugge non è così grave c'è tempo per provare a capire meglio e vedrete che questo lavoro fisserà molto meglio queste informazioni nella vostra memoria perché saranno informazioni che avete cercato più a lungo avete fatto magari una ricerca avete ascoltato due o tre volte quindi il vostro cervello probabilmente le assorbirà un po meglio sempre se non si è addormentato mentre 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 io parlo mentre io parlavo ok questa è l'introduzione di sempre quindi godetevi un po a questi questo ascolto anche non state non siate troppo preoccupati di capire tutto questo in fondo il consiglio che vi do e quindi cercate di starmi dietro cercate di capire quello che dico e poi alla fine se avete ancora qualche dubbio come ho detto potete sempre riascoltare più volte il podcast lì ed è sempre e sarà sempre a vostra disposizione ci avviciniamo un episodio rotondo il numero 550 e ci avviciniamo anche a due anni di vita di questo podcast quindi un bel risultato siete in tanti ad ascoltarlo adesso e io sono molto contento di questo ma veniamo un po a questi giorni un breve riassunto senza entrare troppo nel dettaglio come ho detto e cominciamo come sempre dal tempo bene il tempo io sono contento così ma il tempo si è un po' guastato nei giorni scorsi c'è stato quasi sempre un po' di pioggia qualche volta al mattino qualche volta alla sera qualche volta di notte ma diciamo che l'aria comincia a rinfrescarsi e il tempo è diventato un po' instabile in realtà fa sempre caldo perché questo questa pioggia dura sempre poco non è una pioggia che può davvero far cambiare completamente la situazione quindi quando finisce torna il caldo anche se qualche volta regala un po' di fresco è successo questo quasi tutti per molti giorni e l'unico problema forse che il mare se la pioggia è forte come per esempio la notte scorsa la notte tra il 15 e il 16 il mare in questa situazione diventa agitato e forse un po' sporco e non piacevole ecco ma comunque per il resto fa caldo e in realtà oggi è ricominciato il caldo afoso questa giornata è stata davvero calda e soprattutto questa sera era molto caldo un caldo forse anche umido insomma un po' fastidioso fa caldo anche adesso devo tenere le finestre chiuse per evitare i rumori perché è l'una e trenta ma come sempre fuori la finestra c'è ancora un sacco di rumore ancora tante macchine che viaggiano un po' troppo veloci e fanno un po' troppo rumore ci aspettiamo quindi nei prossimi giorni un ritorno dell'estate simile a quello di luglio a quella di luglio con temperature un po' alte forse un po' di caldo fastidioso ma comunque ancora piacevole per andare al mare e per godersi insomma l'estate questa parte finale dell'estate e adesso vi svelo il segreto di cui vi ho parlato per molti italiani questa è la settimana di vacanza settimana più bella dell'anno forse ma per le persone o almeno per me è per molte persone che come me vivono in una città sul mare una città in cui arrivano molte persone per riposarsi e fare una breve vacanza bene per le persone come me forse questa è la settimana peggiore è molto raro che io viaggi in questi periodi perché penso che sia forse il periodo meno bello per viaggiare io sono fortunato ovviamente perché vivo in una città in cui si fanno vacanze o il mare vicino a casa a cinque minuti dalla mia casa posso andare al mare per quattro mesi l'anno cinque mesi l'anno quindi sono fortunato e però sono fortunato questo non significa che debba essere contento della piccola invasione di questa settimana che peggiora un po la tranquillità del posto in cui vivo quindi in realtà questa settimana non mi piace troppo c'è un po troppa gente al mare affollato c'è un po se c'è un po di ci sono un po di persone fastidiose e quindi non è il periodo migliore per me poi aggiungo un'altra confezione per la maggior parte della mia vita io ho frequentato amici che non vivono nella mia città il gruppo il mio gruppo di amici la mia comitiva come diciamo in italiano è in realtà a una base in altre città perché scusate un po di rumore i miei amici la maggior parte dei miei amici non vivono nella mia città quindi non l'ho frequentata molto da da giovane da ragazzo da da giovane adulto e non ho mai si apprezzato troppo forse il mare della mia città ho sempre preferito andare al mare in città vicine forse in cui l'acqua è un po più bella a dire la verità e anche la sera ho preferito frequentare città un po più interessanti un po più grandi con più movida possiamo dire quindi devo dire che non sono un grande fan della mia città la riscopro un po in questi anni in cui per molte ragioni mi allontano un po di meno anzi molto di meno ma quello che voglio dire è molto semplice mi godo di più la mia città quando non è troppo piena mi godo il piacere del mare di fare sport vicino al mare di fare belle passeggiate però certamente se voglio un po di vita più attiva soprattutto la sera probabilmente preferisco andare in altre città questa è la piccola confessione che vi faccio oggi questo per dire quindi che la settimana del ferragosto non è quella che preferisco non è quella che preferisco nella mia città intendo se faccio altre cose con amici in altri posti in posti in cui mi piace molto andare beh è diverso è una settimana esattamente come le altre dell'estate non mi dispiace fare fare cose insieme agli altri ma in questi anni del covide e anche un po negli anni prima almeno nei due anni prima l'attività è un po diminuita i miei amici sono tutti grandi celli hanno figli famiglie insomma è più complicato organizzarsi ma nel futuro questo dopo il covide potrebbe cambiare di nuovo chi lo sa vedremo vedremo ma comunque in questi tre giorni non ho visto i miei amici perché qualcuno era impegnato come ho detto con le famiglie ma soprattutto perché non è ancora come dire perfetta la situazione della mia bocca vi ho detto che ho tolto i punti venerdì però diciamo che devo stare ancora un po attento al cibo ed è un po difficile sedersi a ferragosto a tavola per 45 ore e guardare gli altri mangiare perché non potevo non posso mangiare tutte queste cose e quindi certamente non era il momento ideale per passare un ferragosto all'italiana con una bella scampagnata una bella gita in montagna o in campagna oppure un bella una bella braciata in qualche casetta di campagna di qualche amico se poi aggiungete a questo anche il fatto che uno dei miei fratelli è in viaggio per una vacanza quindi è lontano dalla città l'altro aveva una gita una gita in un'altra città per per andare a trovare altri suoi parenti parenti della di sua moglie quindi in pratica c'era anche quest'altra cosa volevo restare insomma pranzare con mia madre per farle compagnia ero l'unico figlio in zona mi dispiaceva ovviamente lasciare lei da sola per questa ragione per queste due ragioni non ho organizzato non ho cercato di organizzare nulla con amici con i miei amici perché avevo questo problema con i denti e poi anche insomma non volevo lasciare in questo giorno di festa mia madre da sola ecco soprattutto perché poi i miei fratelli erano un po' lontani quindi beh come potete immaginare insomma ho cercato di essere più vicino ma insomma comunque non è detto che l'anno prossimo non sia diverso anzi a dire la verità ho voglia di un bel ferragosto simile a quello a cui ero abituato nel passato quindi l'anno prossimo potrebbe essere molto diverso e quindi in questi tre giorni domenica ho lavorato un po ma ho fatto anche un bel bagno tra un po di lavoro e un po di riposo non sono andato al mattino presto ma sono andato all'ora di pranzo sono restato un po a prendere il sole non ho mangiato molto domenica a dire la verità mi sono riposato durante il pomeriggio ho fatto un paio di lezioni alla tardo pomeriggio e poi la sera come sempre una bella passeggiata anzi un paio di belle passeggiate l'immancabile gelato gelato che ormai mangio quasi sempre al pistacchio al cocco insieme e poi ho aspettato la mezzanotte del 14 per vedere un po cosa succedeva nella mia città vi ho già spiegato che soprattutto i più giovani festeggiano la notte tra il 14 e il 15 con un fuoco sulla spiaggia di solito questo è vietato ma diciamo che si chiude un po un occhio e poi c'è la tradizione del bagno a mezzanotte io farò un bagno mezzanotte quest'estate ma non adesso con tutta questa folla lo farò in un momento più tranquillo per cui il 14 è andato via così tra riposo e qualche lezione un po di lavoro di programmazione e poi la sera un po di una passeggiata fuori fino alla mezzanotte in cui nella mia città hanno fatto degli spettacoli pirotecnici una parte degli stabilimenti balneari ha deciso insieme probabilmente di fare questi piccoli spettacoli in alcune spiagge e quindi l'effetto era abbastanza interessante abbastanza carino però la mia città è piccola non sono davvero festeggiamenti importanti in altre città si fanno forse feste un po più grandi soprattutto per i ragazzi nella mia città un po è un po diverso probabilmente un posto più per famiglie i ragazzi più giovani vanno in altre in altri in altre città vicine per cercare discoteche o locali più affollati e più divertenti e quindi nella mia città non ci sono cose troppo complicate però in quasi tutti gli stabilimenti balneari o lidi o bagni come dicono più a nord c'era un complesso un cantante c'era della musica dal vivo e devo dire che c'era abbastanza folla questo la notte del 14 anche la sera del 15 e anche stasera ieri sera 15 agosto ho fatto una passeggiata ma più presto quindi era un po stanco avevo un po sonno e non sono uscito la sera più tardi ma ho sentito la musica dalla mia casa quindi c'erano molti piccoli concerti anche il 15 d'agosto sul lungomare della mia città ma andiamo con ordine partiamo dal mattino il giorno di ferragosto è stato molto rilassato rilassante in realtà avevo dimenticato di chiudere questa giornata alle prenotazioni di lezioni e quindi per errore c'era una lezione prenotata e ho deciso di non annullarla però era una lezione nel tardo pomeriggio quindi non è stata assolutamente fastidiosa la mattina mi sono alzato e sono uscito per andare ovviamente a fare il mio tuffo è durato un po più a lungo ho fatto una bella nuotata un po più in lunga del solito un giorno vi farò vedere questo percorso questo tragitto che faccio credo proprio che farò un podcast video come l'anno scorso mentre nuoto nell'acqua vedremo ma vi farò vedere un po qual è questo percorso che mi piace fare a nuoto che in realtà molte persone amano fare lungo la costa la cosa sotto questa piccola collina questo piccolo promontorio che arriva proprio sul mare è un percorso carino che che mi piace molto e beh sì ve lo farò vedere ve lo farò vedere dopo la mia bella nuotata sono rientrato a casa con molta calma mi sono messo comodo e poi ho deciso di lavorare un po il computer di programmare un po rilassarmi un po così questo giorno come vi ho detto è un giorno che si passa ad organizzare questo pranzo si passa a dormire l'inizio del giorno perché la sera la notte precedente ci sono state delle feste di solito quindi si ci si sveglia abbastanza tardi e poi si prepara un po tutto per la scampagnata la gita insomma oppure anche il pranzo in casa è una giornata passata così qualcuno passa un po di tempo anche al mare certamente ci sono persone che vanno al mare ma direi che al soprattutto le persone che vivono in questa zona passano un po la giornata in questo modo organizzare questa questo pranzo più lungo con amici o parenti un pranzo numeroso anche e quindi davvero poi in giro per strada non c'è poi molto da fare o molta gente ecco qualcuno fa un po di spesa al mattino si è dimenticato qualcosa nei giorni prima ma in realtà la maggior parte del tempo poi si passa a fare carne alla brace o anche altre cose alla brace ma con un fuoco acceso e con amici o parenti con cui ridere chiacchierare insomma passare una giornata serena e tranquilla e io durante il giorno ovviamente pranzato con mia madre ma non è stato un pranzo troppo veloce troppo lungo scusate e nel pomeriggio dopo il pranzo mi sono concesso una bella pennichella ovviamente dopo la pennichella mi sono rilassato un po leggendo qualche un libro un libro che sto leggendo in questo momento poi ho guardato qualcosa un po al computer qualche qualche cosa interessante per me in realtà uno spettacolo teatrale di un attore e regista molto famoso qui in italia che mi piace molto che mi piacciono i suoi spettacoli teatrali e poi ovviamente ho deciso di andare a fare una passeggiata fuori un po all'aria aperta era ancora giorno non c'era molta gente in giro come immaginavo e poi sono rientrato per una cena leggera e di nuovo sono uscito per un'altra passeggiata ma era l'inizio della sera quando sono tornato a casa e un po stanco volevo uscire ancora ma ho deciso di restare in casa di fare qualcosa di semplice come guardare un film e poi andare a letto però per qualche ragione non mi sono addormentato subito in realtà c'è volto tempo mi sono addormentato tardi più o meno alle due di notte a un certo punto avevo avuto anche la tentazione di fare un podcast ma poi finalmente mi sono addormentato anche se non per un tempo troppo lungo perché un temporale mi ha svegliato avevo tutte le finestre della mia casa aperta quindi questo temporale molto forte con il vento e la pioggia mi ha costretto ad alzarmi per chiudere tutte le finestre anche se poi è durato probabilmente circa un'ora non troppo a lungo ma purtroppo dovevo assolutamente chiudere tutto per evitare di allagare la mia casa con la pioggia mi sono appena ricordato che ho dimenticato qualcosa del 14 agosto di domenica o sono uscito a un certo punto non per una passeggiata la sera ma per correre ho ricominciato domenica a correre con una distanza di 10 chilometri che è andata molto meglio del previsto ho corso in esattamente un'ora anzi 59 minuti e 59 secondi per fare 10 chilometri ho avuto solo qualche fastidio al tendine di achille questa è una cosa che mi accade da un po di tempo da qualche settimana non è troppo grave ma devo stare attento ho massaggiato prima e dopo la mia coscia e la mia gamba continuo a farlo e metto anche una pomata antinfiammatoria perché è ancora un po fastidioso anche adesso dopo la corsa non è niente di grave ma insomma meglio non scherzare quindi domenica il 14 ho anche fatto questa bella corsa nessun problema con il fiato solo con il tendine d'achille e con troppe persone in giro che mi impedivano di correre tranquillamente ho dovuto fare lo slalom in mezzo alla gente ed era un po fastidioso ma non è colpa loro anche loro anzi loro hanno il diritto di passeggiare sono io che corro quindi sono io che devo adattarmi a loro sì quindi avevo dimenticato questo dettaglio una buona corsa la corsa precedente quella della domenica in cui avevo il covid era stata più faticosa soprattutto per il fiato quindi credo di poter dire che probabilmente il covid ha influito sui miei polmoni in qualche modo ma adesso tutto questo è completamente sparito torniamo quindi alla sera della notte del 15 in cui mi sono alzato alle 4 e mezza circa per chiudere tutte le finestre e quindi stamattina il 16 agosto mi sono svegliato più tardi e avevo alcune lezioni al mattino avevo la spesa avevo altre lezioni al pomeriggio quindi ho deciso di rinunciare all'idea di andare al mare anche perché dopo un temporale così forte di solito il mare è agitato e sporco non mi sono sbagliato perché poi durante il giorno sono passato a dare un'occhiata e in effetti era proprio così il mare era agitato e sporco la giornata quindi l'ho passata tra una lezione un'altra tra un po di riposo e un po di lavoro anche oggi niente di troppo faticoso ma degli incontri piacevoli in cui abbiamo fatto un buon lavoro con tutti sono molto soddisfatto delle lezioni che sono finite alle 8 di sera dopo l'ultima lezione una bella cena e poi sono uscito per una passeggiata e per il mio solito gelato al pistacchio e al cocco ed è finita così anche questa giornata come vi ho detto questa settimana voglio ancora restare un po più tranquillo forse solo qualche passeggiata nella mia città la prossima settimana sarà diverso arriverà qui in zona il mio amico francesco aspetto notizie da altri amici credo che con un po più di tranquillità con meno persone in giro mi piacerebbe invece vedere un po i miei amici e magari passare qualche serata insieme a loro fuori proprio come accadeva in passato come ho sempre fatto e credo che sia arrivato il momento di ricominciare a fare questo forse non proprio tutti i giorni ma certamente più spesso l'epoca dell'isolamento deve finire è ora di ricominciare a fare più cose insieme alle altre persone quindi spero proprio di riuscire a farlo nelle prossime settimane prima di passare alle uniche due notizie della giornata di oggi di questo 16 agosto volevo fare un po una piccola riflessione con voi sulla differenza tra questo mese di agosto e quello dell'anno scorso per quelli che mi ascoltano da molto tempo che mi seguono da da molto da dall'anno scorso almeno forse in molti ricordano che non è stato esattamente un periodo tranquillo o rilassante è stato un periodo vissuto in modo un po scollegato dal mondo esterno con dei ritmi un po particolari con molto poco sonno con un po anzi molta tensione per varie ragioni e vari motivi che non sto a ripetere non sto a ricordare le puntate sono lì potete riascoltarle quando volete ma volevo solo fare questa considerazione di quanto sia diverso quest'anno in cui tutto invece è molto più rilassato molto tranquillo molto più facile a parte dormire di più anche se stasera non è vero perché sono le due e un quarto però devo dire che sono cambiate molte cose la mia vita è più serena quindi per tutti quelli che se lo chiedono questo agosto è molto migliore di quello dell'anno scorso e sì quindi non posso davvero lamentarmi sono molto contento diciamo di questo l'anno scorso molte diverse ragioni hanno causato questo corto circuito in cui insomma ho passato un periodo complicato complesso con una sensazione di disconnessione dal mondo esterno per fortuna è solo un ricordo e in un certo senso a volte quando ci penso mi rendo conto di aver fatto cose che non mi aspettavo di poter fare ho sperimentato una resistenza fisica a dire la verità molto sorprendente con la capacità di funzionare in situazioni stressanti con poco sonno insomma davvero un periodo un po strano che però per fortuna è alle spalle e credo che resterà lì per sempre o almeno ovviamente lo spero questo è tutto per quanto riguarda me quindi chiudo con questa riflessione vediamo invece le due notizie che ho selezionato per voi oggi una arriva dallo sport in questi giorni ci sono gli europei gli europei di atletica a monaco in germania e la buona notizia per noi italiani è che ancora una volta abbiamo battuto gli inglesi il nostro marcel jacobs jacobs è arrivato primo il campione olimpico che è italiano nella specialità dei 100 metri piani una delle gare più importanti nel mondo dell'atletica leggera bene il nostro jacobs è arrivato di nuovo davanti a tutti con il tempo di 9 secondi e 95 centesimi ha battuto due atleti inglesi che sono arrivati al secondo e al terzo posto e che ci ha regalato quest'altra bellissima medaglia medaglia d'oro dopo una stagione un po' difficile marcel jacobs ritorna a vincere e continua a regalarci questo sogno siamo molto orgogliosi di lui l'italia non è storicamente una delle nazioni più importanti in questo tipo di competizione quello della velocità ma le cose sono cambiate negli ultimi anni è arrivato questo straordinario risultato di marcel jacobs che ha vinto l'anno scorso la medaglia d'oro alle olimpiadi e quest'anno la medaglia d'oro ai campionati europei e speriamo che la sua carriera continui così l'anno scorso anch'io ho fatto il mio piccolo record in realtà il 16 agosto l'anno scorso ho corso la mia prima mezza maratona in circa due ore e mezza più o meno e in quel giorno proprio per tornare a questo periodo strano ho fatto 46 mila passi quindi ho corso la mezza maratona alle 6 del mattino in realtà sono uscito alle 5 30 mi ricordo ancora credo alle 5 30 e dopo aver percorso 21 chilometri e qualcosa e 15 21 chilometri e 150 metri sono uscito alle 5 e 18 di mattina durante la giornata ho fatto ancora moltissima attività ed è davvero incredibile se lo guardo adesso ma comunque questa è una cosa che continuerò a fare le mezze maratone e le maratone forse ma non tutto il resto che ho fatto in quel giorno bene piccolo record anche per me quindi il 16 agosto dell'anno scorso ho fatto altre due mezze maratone nei mesi successivi ma questa era la prima quindi la più importante questa sera il podcast è un po lungo mi dispiace ma c'è un'altra notizia il 16 agosto di quest'anno c'è la celebrazione dei 50 anni del ritrovamento dei bronzi di riace infatti era il 16 agosto del 1972 quando sono stati riportati sopra la superficie dell'acqua queste due questi due capolavori di epoca ellenica se ricordo bene che sono diventati tra i reperti più importanti mai ritrovati e che ancora oggi attirano moltissime persone moltissime persone moltissimi turisti che vogliono guardare da vicino questi due capolavori queste due statue incredibili che il mare il mare ionio ha restituito 50 anni fa con questa notizia è tutto davvero tutto siamo oltre 40 minuti mi dispiace molto velocemente vi leggo l'aforisma di oggi un personaggio non contemporaneo vi invito a scoprire il suo nome è quello che ha fatto nella sua vita la sua frase celebre è questa date agli altri molta libertà se volete averne questo è un modo per dire che se vogliamo avere libertà noi dobbiamo essere disposti a concedere la libertà anche gli altri quindi rispettare la libertà degli altri se ci teniamo alla nostra mi sembra davvero una bella frase e sono felice di chiudere questo episodio con questo aforisma la puntata è diventata un po troppo lunga quindi non vado avanti con altre cose sono un po veloce nel chiudere è ora di andare a dormire sono le 2 30 quindi io porto paolo a letto vi saluto e ciao a tutti grazie a tutti